Ciao amici di Italia Dope Games Allora Che giornata assurda Vabbè E ok, io ho detto che di indiscrezioni Non parlo più, però così An passant Data Miner trovano DLC Trovano PES 2022 full Renan Galvani, le bombe Allora, le bombe di Galvani Dopo le bombe di Mosca, facciamo il punto I Data Miner Che cercano su Steam Le varie cose, dicono che c'è un DLC In arrivo, dicono che c'è un file Che si chiama PES 22 full Di queste cose io sento parlare Da ottobre, novembre Non dico nulla, vediamo domani Quello che ci sarà e speriamo bene Renan Galvani dice che sa tutto Che ad aprile Ci sarà l'annuncio, che ad aprile Ci saranno dei press tour In Francia, in Inghilterra Negli Stati Uniti e che tra fine Aprile e inizio maggio esce Football 2022 È per PC e console E il mese dopo esce per mobile Ecco, vi ho fatto questo sunto Delle indiscrezioni Rapidissimo, proprio Per chiudere il discorso Io vi volevo solo Invece annotare che dopo 20 giorni e più È resuscitato il Twitter Ufficiale di football E lo fa per Ringraziare tutti i nostri fan Di aver preso parte ai fans Eleven Oltre 160.000 di voi Hanno votato Quella che è la best all star line up Dei nostri club partners E così diamo Un final shout out Al team che avete selezionato Prima di tutto parliamo di Juventus E del giocatore che è stato introdotto Il giovane ma potente Centrocampista Difensore centrale De Ligt Che è stato votato come Uno dei difensori migliori d'Europa Nel fans Eleven Altri giocatori Ci sarebbero stati Che avresti Altri giocatori Dei bianconeri Che avresti voluto vedere Nel team E qui c'è Questo fans 11 Inductise Juventus De Ligt Eccetera Questa cosa A me fa pensare Che se domani Ci sarà Questa campagna Preseason Volume 4 Se ci sarà Lo ribadisco Potrebbe esserci Proprio In regalo Per quando uscirà Creative Teams Il fans Eleven Io Questa è una mia ipotesi Che si basa Su Notizie Ufficiali Subito dopo Questa sera Luke Mattaini Mi ha segnalato Un'altra notizia ufficiale Molto Importante Secondo me Perché qui si vede Che comunque I football Si sta Si sta muovendosi Dietro le quinte Anche Nonostante Konami Non dica nulla Ci sono Movimenti Allora Qui Il Commonwealth Sport Che non conosco Onestamente Però Il Commonwealth È l'Inghilterra E tutti i paesi Ex Coloniali L'Inghilterra Dice che Dota 2 I Football Series E Rocket League Saranno i titoli Principali Dell'edizione Estiva Dei Commonwealth Sport Championship Che si disputeranno A Birmingham Il 6 e 7 agosto 2022 Eccolo qui Qui c'è l'immagine E ci sono I tre giochi Quindi Se non giocheranno Con una demo Plus Non si sa mai C'è stato un evento In cui hanno giocato Con le squadre Offline Che c'erano C'è stato anche Qualche problema Per un giocatore italiano Nella connessione Non ricordo Ci sono stati Dei problemi I Football 2022 Insieme agli altri Due titoli Sarà presente Come dire Come gioco principale Di questo evento Quindi Questo è quanto L'account Twitter È resuscitato Dopo 20 giorni Per parlare Di fans Eleven E quindi Io credo che qualcosa Domani Penso Dico io Perché altrimenti Non si capisce Perché dopo 20 giorni Si siano Resuscitati Nella comunicazione Abbiano dato Questa informazione E qui c'è Questa novità Dei Commonwealth Sport Championship In Birmingham E in cui Ci saranno Appunto Tota 2 Il Football E Rocket League Staremo un po' A vedere Che cosa succede Ragazzi Domani mattina Con calma Adesso Fra un po' Si vannanna E domani mattina Pubblicherò subito Le novità Ufficiali Che arriveranno Io vi ringrazio Per l'attenzione Come al solito Ringrazio Il 99,90% Di voi Con cui si può Parlare Tranquillamente C'è lo 0,01 Che invece Usa toni Offensivi Quasi Vabbè Non ne parliamo Grazie per l'attenzione Vi aspetto Per il prossimo video Se ancora non siete iscritti Al canale Fatelo subito Se siete iscritti Abbonatevi Oppure Utilizzate il link Di affiliazione Presente All'inizio Nella descrizione Del video Per Supportare Il network Italia Talk Games Facendo qualsiasi tipo D'acquisto su Amazon L'importante È che partite Da quel link Poi Prendete Quello che volete Vi ringrazio ancora Per l'attenzione E al prossimo Video Ciao Ciao